Il primo inventore della lampadina è il britannico Sir Joseph Wilson Swan, che arriva a questa scoperta nel 1878. La sua casa è la prima a essere illuminata da una lampadina elettrica e qualche anno dopo tocca un luogo pubblico, il Teatro Savoy di Londra. Swan è a un passo dall'essere il primo e l'unico inventore della lampadina, ma il difetto nella sua scoperta era che la lampadina si anneriva rapidamente, perché il filamento di carbonio da cui era composta emetteva fuligine. Qualche anno dopo, il 27 gennaio del 1880, è l'americano Thomas Edison a trovare la soluzione. A differenza di quella di Swan, la lampadina di Edison non anneriva all'interno del bulbo e riusciva a mantenere la luminosità costante. Le dispute tra Swan ed Edison non mancano di certo, ma si risolvono presto con la creazione della società Edison Swan, che all'epoca era una delle più grandi produttrici mondiali di lampadine.